Una sorta di bipolarità cittadina a sinistra, il valzer di nomi a passione stupisce. E così c'è che al governo cittadino vorrebbe lui, che pensa a lei, che pensa a me, per richiamare un tormettone estivo. Ed allora ecco che il caos sarebbe servito. Come commenta il comunicato stampa che ha fatto il senatore Dario Stefano, loro non sono presenti oggi al tavolo. Secondo me era un'occasione per confrontarsi, per fare il punto della situazione e secondo me chi si attrae il confronto ha sempre torto. Lei crede che il nome che possa unire la coalizione continua ad essere quello di Carlo Salvemini? Io credo che bisogna unire attorno a un sistema di visione del progetto, partire da ciò che si è fatto e capire qual è la traiettoria del futuro da fare insieme, partendo da un confronto. Si paventa la possibilità che lei abbia un suo nome in serbo, lei cosa risponde? Il nostro nome è Carlo Salvemini. Fumata nera al momento quindi sul nome di Salvemini? Noi abbiamo ribadito la nostra posizione. Primarie sono necessarie non per mettere in discussione una leadership, ma per riafforzare. E quindi vogliamo delle primarie vere, dove sia presente il civismo, con Alessandro Dell'Inoci o qualche nome di spessore del civismo. Mi scusi, Dell'Inoci quindi è il vostro candidato sindaco? E' uno dei candidati delle primarie. Un papabile candidato sindaco? Sì, abbiamo bisogno di entusiasmo, di ritrovare forza e quindi devono essere nomi di spessore. Il coordinatore però mi spiega, io ho sentito Dell'Inoci poco fa e lui ha detto che il suo nome è Salvemini. E allora un altro nome del civismo, un nome di peso, capace di riapportare l'entusiasmo all'interno della coalizione. Su questo noi siamo fermi e irremovibili.